benvenuti di voi nel canale kanko kanaiki vi ringrazio di essere di voi qua sono molto contento che il canale stia andando molto bene manca pochissimo ai 3000 alla data di oggi mancano quasi 100 persone a raggiungere la bellissima numero non cifra numero di amici iscritti al canale che sono i 3000 sono molto molto contento molto molto contento e te tutto merito vostro perché ovviamente siete voi ad aiutarmi ad aiutarci a migliorare sempre di più e non so come ringraziarvi del fatto che proprio il vostro supporto io continuo a leggere cose bellissime scritti bellissimi che mi arricchiscono e arricchiscono anche gli altri perché l'iterazione tra me e chi mi iscrive o l'iterazione tra di voi permette anche a chi viene si avvicina al canale e quindi vi invito a leggere i commenti che le persone mettono gli amici mettono sotto ci permettono di migliorarci di essere sempre sempre al top come argomento e di crescere in modo non soltanto bionivoco o bilaterale ma universalmente ed è bellissimo questa è veramente una bella bella soddisfazione perché era questo tipo di canale che io e sui sensei volevamo creare ok perciò grazie di cuore detto questo iscrivetevi al canale cioè ci stanno aiutando cerchiamo di raggiungere 3000 più velocemente possibile nel giusto modo è però cerchiamo di raggiungerlo perché effettivamente a me piacciono le cifre tonde non posso negarlo e 3000 più si è vicino più si vede la meta e più il desiderio in alto sono anche un essere umano e quindi aiutateci iscrivendovi e grazie ancora detto questo allora avete come avrete constatato che sto cercando di organizzare il video a porli tre a mettervi tre video online durante la settimana questo per dirvi che non vi abbandono io e susi non vi abbandoneremo mai il canale proseguire a fare video tre sicuramente ve li assicuro che sarebbe la tecnica lunedì il mercoledì per quanto concerne gli stratagemmi perché voglio la parte culturale che voglio fare e il venerdì sarà il blog dove parlo di storie delle arti marziali dei di varie vicende mie e quello che volete voi ovviamente tempo permettendo perché dal come sapete dal da ieri 18 maggio abbiamo più possibilità di muoverci quindi abbiamo dopo 70 giorni circa in cui siamo stati in quarantena anch'io e sui sensi abbiamo molte cose da fare molte cose da svolgere molte dove riaprire le nostre attività eccetera eccetera quindi ovviamente vi sarà meno tempo anche per voi anche per voi di seguire video molto lunghi ovviamente io non metto freno alla lunghezza di video perché fa parte del mio modo di pormi perché io sono dell'avviso che per tanto tempo soprattutto durante questo periodo di quarantena ci vi sia stato necessità di dare cultura e dare tanto alle persone che magari si sentivano molto soli perché magari isolate perché ovviamente chi vive e ha vissuto di dojo e vivrà di dojo di dojo con quello che è otojang la seconda dei nomi che utilizziamo ovviamente la mancanza la mancanza della pratica può poteva e può farsi sentire molto dentro il nostro la nostra determinazione a superare il periodo di difficoltà ok e per questo motivo che ho fatto i video lunghi affinché voi poteste che io potessi aiutarvi a non vive la noia bensì parlare di qualcosa di interessante e la fortuna vuole che sono stato una persona sono una di quelle poche persone che ha vissuto in giappone ha vissuto in corea ha fatto sono storico quindi tra una cosa e l'altra questo aiuta moltissimo a portarvi qualcosa nelle vostre case e poi aggiungiamo molto del materiale migliore che si trova in giro è in inglese molti dei video migliori che si trovano in giro riguardanti non solo la cultura ma anche la tecnica si trovano in inglese perché la voglia degli americani o di chi parla l'inglese di poter condividere è molto antecedente a quello che adesso si sta scoprendo in italia quindi mentre in italia sulla maggior parte dei canali youtube sono dedicati ad altro a un certo tipo di intrattenimento quel tipo di cultura marziale o che può essere del budo del wushu o delle arti mazzari coreani del musul coreano in america era già sviluppato poi è un dato di fatto ci sono molti maestri qui in italia con grandissima cultura però per motivi di pecunia cercano di darlo col contagocce come vedete i video sono gratis voi l'unica cosa che pagate l'elettricità e il vostro tempo per stare a seguire un video lungo però la mia speranza è poter dare a tutti voi quel quid in più quella conoscenza in più e poter condividere e fare in modo che tutti noi possiamo diventare dei praticanti migliori perché anche io grazie alla vostra ai vostri messaggi interagisco con voi quindi è un continuo crescere assieme perché crescere con la cultura per un motivo semplicissimo ragazzi perché le arti marziali perché la maggior parte delle persone hanno una biblioteca piena di libri di arti marziali eccetera eccetera bellissimo non nego di anche io a roma ne ho di libri di arti marziali soprattutto sull'aikido però vi ricordo sempre ricordare che in asia in estremo oriente giappone cina e corea chi faceva che apparteneva alle classi guerrieri che poi nel caso del oa linea ambano o ai busci o ai futuri mandarini parli parlo del periodo un po simile studiavano tutti quanti la cultura tra quelli confucianesimo studiavano il taoismo studiamo il buddismo studiavano i 36 strada gemmi studiavano il sun su sun bin e mettete tutto quello che volete comunque c'è vi era uno studio molto approfondito ed erano persone che poi potevano diventare burocrati come in corea c'erano due classi burocrazia e militare oppure come in giappone dove la classe militare faceva anche da burocrate anzi la maggior parte erano burocrati però con che sia la cultura era una cultura generale importantissima e vi consiglio di guardare il film twilight samurai per darvi un'idea dove anche una bambina alla fine del del periodo edo perciò siamo vicino al bakumatsu 1860 poi comunque se il film è di quel periodo la alla fine di un'era il padre perciò stasagore sei bei che il protagonista dice alla figlia una donna deve cominciare a studiare cosa che normalmente solo i maschi erano chiamati a fare quindi la cultura è importante non cercate di ottenere la cultura 60 70 80 anni che va giusto perché il tempo con la pensione è di più quindi è carino che una persona possa studiare di più bensì cercate di ottenere la prima anche a 12 13 14 a 20 30 40 anni non eludete la cultura perché attraverso la cultura voi vi avvicinate a quello che è la nostra passione ossia il budo per quanto concene chi ama le marziali giapponesi oppure le altre forme musul o wushu per quanto concene la corea e la cina quindi il video sono fatti così per affinché possa condividere il più possibile e formare una nuova classe una nuova classe dirigente di marzialisti dove noi tutti siamo insieme per poter in una grande condivisione di amici tra amici di cultura perché io non sono una persona che è un tuttologo che sa tutto non sono una persona che sa tutto quindi grazie a voi imparò sempre di più e a proposito oggi facciamo le 36 stratagemmi e quindi siamo arrivati al ventunesimo il 21 è un numero molto magico per me susi magico perché indica molte cose per noi e il 21 è un qual in quel qualcosa che ci ci rende felici e ci ci è il nostro numero magico ecco ecco quindi ci vediamo tra qualche seconda è un piacere avervi qua dopo la lunga premessa parliamo di stratagemmi allora sono songyun devicho sesto dan di aikido menkyo okuten di daiteru ho qualche grado sopra la cintura nera di judo e dal 2014 ho fatto un pochino pochino di box questo per dirvi che sono uno tra di voi sono cresciuto qui in italia però ho avuto la fortuna di poter studiare in in giappone e in corea quindi questa è la mia grande grande fortuna che voglio condividere con voi e sono il maestro del kanko kanaiki il kanko kanaiki è la scuola a cui faccio riferimento e di cui sono il perché questo è il secondo kanko kan perciò la seconda fase sono un socio fondatore sono il fondatore insieme a susensei del nuovo kanko kan e stiamo portando avanti questo canale che è legato che è un canale dedicato a tutti ma in realtà difatti ottiene mantiene il nome della scuola perché è il mio modo di pormi il mio modo di essere nel nell'ambiente delle arti marziali parliamo del 36 strada gemmi io utilizzo questo questo questa edizione che l'edizione del che è stato scritto cioè pubblicato da edizione il punto d'incontro edizione il punto d'incontro ed è a cura di già luca del dottor giac luca magi troverete il link in descrizione dove potete tranquillamente cliccare e ottenere il testo da amazon oppure potete andarlo prendere da feltrinelli mondadori o giunti queste sono le varie case librerie dove vado a comprare io di solito oppure ci sono tante botteghe librerie del che sono ottime però per chi non avesse la possibilità di andare come a me piaccia per esempio io su se amiamo moltissimo andare da feltrinelli comunque se non avete la possibilità link in descrizione e potrete ottenere il testo a rispondere a molte persone che me lo domandano e me l'hanno domandato quale delle versioni che ho messo più versioni quelle più economica a quella un pochino più prestigiosa quale delle versioni vi consiglio tendenzialmente vi consiglio sempre io sono una persona che risparmia molto perciò io vi direi sempre andate sull'economica perché è quello che vi serve però nel per quanto concerne i testi libri avere una versione una versione più prestigiosa permette di avere un'analisi critica del testo superiore perché ovviamente il 36 statagemmi io vi racconto la mia analisi da parte di come marzialista budocca storico vivo questa questo statagemmi vi cerco di spiegare parole mie come però anche in questo piccolo libro quello più economico ogni statagemmi viene spiegato con una parte storica molto molto interessante da cui nasce lo statagemmi quindi vi consiglio altamente di di prenderlo se volete avere un'edizione tascabile a portare via in giro come ho fatto io comportandolo anche in giappone vi consiglio la versione più economica mentre invece la versione più prestigiosa e per chi volete tenerlo a casa e avere più informazione che è sempre sempre un bene ok comunque adesso iniziamo con statagemmi altrimenti si prima di iniziare ricordatevi che noi anche io e sui sensei teniamo un blog in questo momento un po fermo perché come sapete sui sensei ha molti impegni lavorativi quindi ovviamente e non si è mai fermato durante questo periodo di quarantena perché è infermeria professionista però appena avrà un po di tempo ricomincieremo a scrivere e nel blog troverete quello che a molti mi chiedono la sbobbinatura di molti testi oppure testi ancora migliori perché Susi è molto molto afferrata nella parte culturale ok detto questo allora ventunesimo statagemmi la cicala dorata abbandona il cuscio bellissimo eh il commento conservare le apparenze per mantenere la propria potenza l'alleato non nutrirà sospetti l'avversario non si muoverà a rendevolezza e ritardo tra parentesi conducono conducono come dice il libro dei mutamenti ossia li ching al decadimento ok su questo poi ci ritorniamo un antico proverbio cinese dice che promette il sub in ingannare il nemico con false apparenze questa è l'essenza della strategia magnifico ricordatevi molti statagemmi sembrano simili l'uno dall'altro però nel contesto storico che cambia perciò vi consiglio di prendere il libro assolutamente vi consiglio sempre e di andarvelo a leggere la parte storica da cui nasce perché lì capirete anche il nesso per cui questa strategia è leggermente differente dagli altri ok ingannare il nemico con false apparenze e può essere diviso in in e io ossia la parte in è quando noi inganniamo una persona apparendo più debole apparendo innocui apparendo anonimi ok anonimi e questo è il principio per esempio che vi consiglio di andare a vedere il video sui grey man ossia l'uomo grigio l'uomo grigio è una persona che non si fa notare nonostante abbia quelle qualità da poter essere applicato che facciamo quando succede un qualcosa un grey man facciamo conto io conosco i motori di una macchina non dico mai nulla non mi non mi atteggio da persona che conosce un giorno un amico gli si ferma la macchina e io riesco a rifarlo ripartire quello e il fatto che io sono ho dimostrato di sapermi muove nonostante le difficoltà e nonostante non abbia mai esposto la mia bravura perché magari mostro la mia bravura troppe volte le persone dicono ok si atteggia troppo è troppo pomposo è un saccente eccetera eccetera ovviamente si contraddistingue a questo principio il minuteman ossia la persona che sa le sue cose sa agire ed è ritenuto un esperto volentieri a volte si si diventa più minuteman che grey man perché facciamo fate conto io che metto i video online tutti sapete che faccio arti marziali e inutile nascondersi dietro l'andito a dire no no non sono uno che lo sa quindi da me ci si aspetta essendo anche orientale a quello fatto gli arti marziali ed è una conferma quindi io appartengo in questo caso al gruppo dei minuteman non sono un grey man non posso creare un'apparenza però in generale nascondere le proprie capacità diventare anonimi per poterle applicare più liberamente senza l'occhio vigile di terzi è il principio che di cui stiamo parlando questa strada gemma al contrario se noi siamo molto deboli non abbiamo siamo depressi siamo messi giù di morale il mondo ci sta schiacciando mostrarci sicuri di noi camminare a testa alta ci permette ci permetterà di evitare anche situazioni negative come potrebbe essere un'aggressione perché spesso volentieri i chi vuole rubare chi vuole aggredirci sceglie la vittima e spesso la vittima sceglie quelle persone che sono tutte mosce ovviamente qui dico mosce e non grey man perché il grey man comunque sia una persona che comunque è anonima ma non è una persona che sembra devole è un anonimo che preferisce rimanere nell'anonimato non si espone non non fa nulla se non chiamato in causa però sa come muoversi nel momento del bisogno quindi chi è abituato ad aggredire la gente sa che il uno che è anonimo ma è sospettoso non non lo aggredirà mai altresi chi invece veramente molto molto giù verrà sempre preso di mira imparare a mantenere un contegno è importantissimo e qui il discorso l'abito fa il monaco purtroppo l'abito fa il monaco anche se un termine brutto da dirsi l'abito fa il monaco perché come ti poni come ti vesti le persone ti giudicheranno e perciò come ti vesti le persone pensano ecco questa persona è una persona in una certa maniera oppure pensa magari chi si veste in modo messo male in modo non non pulito è sporco magari era è un miliardario oppure una persona con un genio con una grande cultura e che invece si veste chanel si veste gucci e compagnia bella ha una cultura piccolissima ed è un po raccio che l'unica cosa che ha fatto è stato investire in vestiti o nella bella macchina può essere tutto purtroppo è così la gente tende ad apprendere la prima apparenza che incontra e questo stratagemma insegna di utilizzare questo questa cosa per ottenere i nostri vantaggi perché effettivamente il nemico che può essere il nemico e ma vedremo anche che qui è bellissimo e dice anche l'alleato non utilirà sospetti vuol dire che anche l'alleato può essere un nemico e ve lo dico per mia esperienza diretta io ho sicuramente ho tanti nemici perché anche come persona pubblica ma anche perché il fatto che sono molto ferreo con quello che credo mia madre stessa diceva di che doveva essere più grigio non gray man grigio nel senso che non è sempre bianco e nero però io ligio alle regole ligio alla verità ligio alla ricerca della verità alla sincerità eccetera eccetera ovviamente sono sempre stato ferreo nelle mie convinzioni escludendo ogni tipo di diplomazia tenere presente che ci sono stati anche degli EPS di promozione sportiva che mi avrebbero dato anche l'ottavo dan per quanto ero famoso all'epoca non accettato ho preferito rimanere col mio grado ottenuto faticosamente e in maniera sincera dai miei maestri questa è stata la cosa principale da che non ho fatto testimoni miei allievi non ho accettato di ottenere gradi a destra a sinistra cosa che potevo tranquillamente fare perché sono asiatico c'ho la cultura tecnica c'ho la potenza la possanza eccetera eccetera ma non era quello il discorso però tornando a noi le cose che mi hanno ferito di più sono stati quei pseudo amici che io ho aiutato palesemente economicamente ho aiutato donando a loro il mio tempo donando a loro ogni cosa che potevo dare capito non li ho fatti dormire nei migliori alberghi pagati da me a volte a volte quando venivano li ho portati in giro scaruzzato anche se non guido la macchina attraverso le macchine dei miei allievi a destra a sinistra io li ho portati a mangiare nonostante abitassi così lontano che ritornava alle 3 di notte per svegliarmi alle 5 per andare all'università a fare bibliotecario oppure a lavorare a lavorare all'interno del del pro rettorato del del professor biaggini ho fatto tante cose per queste persone e sono la prima occasione per fare branco con i con chi mi odia mi diffama hanno fatto le diffamazioni peggiori sono stati personaggi peggiori queste persone che io chiamiamo amici e fratelli quindi per tornare a noi il discorso è fondamentale che queste persone possono essere molto molto negative e sembrare più felici di loro sembrare di avere una vita migliore sembrare perché tutta apparenza perché ovviamente quello che loro traggono come informazione quello che vedono online i social lo sappiamo tutti che sono tipo instagram sono è falso è falso è falso totalmente falso ci sono persone che conosco persone che andavano sembra su instagram vanno sempre per locali prima della quarantena ovviamente andassero per locali bevessero sempre io li conosco da tanti anni so che molti di loro si avvicinano ai tavoli dove sono c'è stato è stato consumato un qualcosa si avvicinano si fanno la foto come se avessero consumato il cocktail la pericena capite è tutto molto fittizio perché è questo è come quelle persone che fanno una foto e mostrano la foto non cercano la foto che vuole mostrare molte donne lo fanno molti uomini lo fanno dicono a me questa foto non mi piace perché sembro troppo grasso a me non piace anche io io non non facevo mai foto perché ero ero molto grasso e non mi piaceva fare le foto e chi mi dice o perché non hai foto le tue foto non fa sarà quasi un ventennio che non faccio foto su di me perché non mi piaceva essere grasso ed è difficile convivere con qua quando qualcosa non ti piace il incompatante quando le persone scelgono le foto scelgono le foto dove appaiono più belli a per gli piace apparire nel miglior modo possibile nel presentarsi al mondo nella miglior modo possibile ovviamente quello per altre persone che lo guardano è ma guarda questo guarda come ricco guarda come 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 felice guarda questo guarda quell'altro crea una falsa realtà e magari chi sta mettendo il foto non ha neanche l'intento di fare questa cosa però molti lo scelgono appositamente come quel discorso delle persone che fanno la pericena scelgono questa falsa realtà crea che cosa dagli alleati gli amici gli amici possono creare a vivere un invidia e quanti casi di persone che amici invidiosi che poi hanno assassinato l'amico perché magari sembrava più ricco di lui quanti casi ne conosciamo vi consiglio di vedere i cold cases oppure questi programmi che fanno sul canale 8 e 9 che di tanto in tanto io metto quando mi alleno ok ma nel contempo bloccano il nemico dall'agire perché se io mostro una certa determinata cosa che ci sono fate prudenza agli amici ma i nemici utilizzate a questo stato gemma anche per proteggervi dai nemici perché se i nemici pensano a questo è un fallito l'ho totalmente eliminato non è nascosto in sardegna chi se ne frega di lui ovvio in quell'istante non sanno che magari in sardegna io sto facendo continuamente viaggi per per aggiornarmi sto lavorando per far migliorare il video cosa che non avevo all'epoca perché chiedevo sempre a terzi di farmi video oggi riesco a farli io i video posso fare mi sono ho fatto corsi per migliorarmi e fare i video nel miglior modo possibile nella maniera che mi piace di più e alla fine quando mi sono presentato di uovo al mondo avevo tante cose i miei nemici che mi odiano ingiustificatamente però o giustificatamente che sia mi odiano ovviamente si sono ritrovati un qualcuno che era ormai è impossibile schiacciare la verità che sto cercando di condividere a voi perché ovviamente il loro intento nella loro invidia è quello di azzittirmi affinché io non possa condividere quello che ho imparato in giappone con con voi ormai non possono più farlo non possono più farlo perché ci siete voi a capire la differenza e questa è la potenza di non essere il maestrone bensì di essere uno della comunità interagisci con la comunità quindi è importante comprendere che l'alleato non ti dirà sospetti perciò l'alleato che adesso è amico ma domani può essere nemico non ha non è non è non ha voglia di aggredirci per l'invidia ma nel contempo l'avversario non ci non si muoverà non non agirà contro di noi perché pensa che ci ha sconfitti ok a rendevolezza e ritardo conducono al decadimento ossia fare il fatto stesso che non poniamo pericoli ci ci lasciano liberi di agire serenamente questo è quello che è successo in questi in questo anche questo ultimo anno dove sono stato aggredito verbalmente con diffamazione ho lasciato perdere o mi sono concentrato nel lavoro seguendo il consiglio di Susansei nel lavoro nel nel fare video nel nel condivide nel creare un dojo eccetera eccetera e oggi posso considerarmi un uomo molto molto fortunato e non ho paura di dirlo perché ovviamente sono passato a una seconda fase che dal gray man sono diventato al minuteman una persona che sa agire e sa gestire il suo tempo e la sua realtà ok pertanto lo statagemma insegna conservare le apparenze per mantenere la propria potenza ossia l'apparenza di essere morto essere scomparso tenete presente che mi ricordo ancora qualcuno che diceva che ero venuto in sardegna e in sardegna si che brutto cioè perché parlare male dei sardi e della sardegna quando siamo nella stessa paese ossia l'italia comunque si dicevano che in sardegna si aveva l'usanza di cambiare i nomi perché io mi facevo chiamare david cosa che non sono non si sono neanche informati che il mio nome è david victor maximilian son ghiuncho ossia questi sono nomi cattolici che essendo ancora cattolico tendo a usare anche se il mio amore verso loro le mie origini per mi dicono utilizza il mio nome coreano e questa è l'assurdità l'assurdità non mi conoscono non mi conoscevano eppure hanno voluto utilizzare perché stavo cominciando a utilizzare il nome david per farmi non solo per per sciogliere un po le acque perché il nome orientale tende un po a distanziare io invece volevo aprirmi perché anche qui in sardegna con le persone che conoscevo mi presentavo come david perché è il mio nome ok quindi è triste quando le persone giudicano in questa maniera e cercano di utilizzarlo per come atto di bullismo insieme agli altri per diffamarti ok ma a queste cose la miglior modo è stato quello di scomparire per riapparire più forti perché nel mio scomparire ho portato avanti un'apparenza che sembrava sconfitto e isolato in un'isola scusa di gioco di parole e innocuo mentre invece ho dimostrato col tempo e il tempo è galantuomo signori eh il tempo è galantuomo amici miei ho dimostrato col tempo che quelle loro diffamazioni non avevano né capo né coda e oggi sono amato e rispettato perché io amo e rispetto alla comunità marziale mentre invece loro che hanno sempre parlato male di tutto e di tutti alla fine sono isolati è una grande vittoria detto questo iscrivetevi al canale aiutateci a crescere aiutateci veramente perché siamo quasi a 3000 eh 3000 3k 3k di persone vere non numeri ripresi pagando capito bello bello sono molto contento aiutateci a crescere e vi aspetto nel prossimo video domo domo